La Bibliografia di Stasera è completamente differente come composizione, come rimandi, come struttura del contenuto nei confronti delle altre. E questa è un po' la caratteristica che devono avere quelle che guardando, come tutto il corso guarda, al femminile, si fanno carico delle differenze che il femminile propone al proprio interno. E qui abbiamo, ho messo lì addirittura la fotografia che vendevano i tabaccai, perché è stata, si vede molto chiaramente, una delle donne più belle del Novecento. Di solito una donna bella non scrive bene, è una cosa che anche si dice. La sua scrittura invece risulta straordinaria, come fra un po' vedremo. Inoltre all'interno della dimensione De Giorgi non si può in assoluto evitare di toccare la dimensione Calvino. Allora mi sono permesso di mettere come indicazioni la possibilità, so che costano un sacco di soldi, però vale la pena, perché nei meridiani mondadori c'è un volume dedicato alle lettere e ci sono le lettere che Calvino mi ha scritto e sono secondo me importanti ai fini del corso perché tra me e Calvino, oltre che una grandissima amicizia, nata nel 67 e finita con la morte nell'85, c'è un curioso rapporto pedagogico perché Enriquez nel 67 con la Zanichelli aveva sollecitato Calvino a fare un'antologia, però aveva messo me come controllore pedagogico della antologia. Diventammo amici, ma per Calvino la pedagogia era qualche cosa come per me l'arte di fabbricare i carri armati. E così quando se n'è tornato a Parigi dove viveva mi ha subito mandato una disperata lettera perché Giovanna, la figlia amatissima, era capitata nelle mani di un maestro completamente impazzito. Gli risposi dalle cose che mi diceva che non era un maestro impazzito, era un valoroso seguace di Celestin Frenet e c'era da fare una riverenza. E quindi oltre a spiegargli chi era Frenet, che cos'era l'empremerie dans l'école, che cos'era le mouvement des cooperatives, l'educazione cooperative, gli inviai il poema pedagogico di Anton Semonovic Macarenko e il mio credo pedagogico di John Dewey in regalo. Non gli venne una mania per la pedagogia, ma un rispetto enorme per la disciplina, per lo spazio altro che rappresentava. È morto, ahimè, purtroppo, nel 1985 e fino allora, proprio fino a quel momento, lo scambio di informazioni, di lettere, eccetera, è stato continuo. Quelle pubblicate sono molto tecniche, fanno riferimento perché, per esempio, mi chiede se invece del castello dei destini incrociati scriveva il motel dei destini incrociati e me ne fa la proposta, ma io lo sconsiglio e cose così. Quindi la non separabilità dei destini di Elsa De Giorgi e di Italo Calvino, mi raccomando, non porti a ritenere che lei è inferiore. Lei è molto grande. Lei è all'interno di una dimensione di scrittrici dimenticate ed è a livello massimo, sia come scrittura, sia come invenzione e poi anche dai punti di vista che vedremo. Avendo messo queste immagini per l'ultima mezz'ora di Fabian Burkell, credo che si sia raggiunto una possibilità di iconografia ermeneutica, come raramente ci accade. Diamo la parola a lei. Prendiamo lei poetessa. Ripeto, si abbia comunque la curiosa sensazione che quando ero bambino lei era nelle tabaccherie perché era una diva dei telefoni bianchi. Ci sono dei giovani anche, per fortuna, quindi se non si sapesse cosa vuol dire essere diva dei telefoni bianchi, in pieno fascismo, a partire dal duce del fascismo a cui si deve la frase il cinema è l'arma più potente, per far vedere che non morivamo di fame, che stavamo decentemente, i telefoni erano sempre bianchi perché erano molto più costosi di quelli normali. In realtà ad avere i telefoni bianchi non erano quelli dei film interpretati dalla dei giorni perché si alzava di molto il livello. Sentiamo in un momento molto particolare cosa ci dice in poesia. Il momento molto particolare è questo, è una tremenda sequenza e ci sono persone che l'hanno vissuta. La metà degli anni 70 è stato qualche cosa di terribile, tra attentati ai treni, lotte fra bande rivali e così via. E in quella situazione lei aveva interpretato una delle signori narranti in Salò, 120 giornate di Sodoma di Pasolini ed era anche molto legata a Pierpaolo e quindi quando se l'è visto uccidere e quando ha vissuto la treggenda di quegli anni ne ha parlato in poesia. Io, io sono io, che apro sola questo anno nuovo, contemplando dalla stanza rosa del circeo, intiepidita dalla vecchia stufa, il verde grande del bosco sotto un cielo di perla, che è stato rosa anch'esso all'alba, per sorridermi stamane. Io sono io, china ancora sul foglio bianco a salutarti con la più illecita speranza, i morti chiusi nel cuore a dilaniarmi, a consolarmi. Dunque ricordiamo, cominciò il tuo macabro fratello a portarsi via Carlo Levi, era il 4 gennaio. solo il 21 dicembre del 74 con Rafael vedesti il mio logos, stupendo, dicevi turbato, sillabando l'aggettivo, stupendo questo senso della morte, una lacrima dritta, tirgava la guancia, raggiungeva la bocca, disegnata in quei tuoi fini inesauribili sorrisi. Sola discendeva dal buio, dagli occhiali cannocchiali, per mesi bendato in un gioco per monitori. Eri stata a pensare in quella clinica cortese dell'ipocrità serena di ogni clinica. Ed eri cieco, e c'è chi aveva disegnato onirici disegni scrivendo cose, versi decifrabili solo all'inuncia che ti amava. Per questo forse ripetesti sillabando, stupendo, questo senso della morte. E la morte era là, in agguato, e ghermi la tua affettuosa persona seppellendola nel conas memorante, e ne consegnò la spoglia inconsi al tuo macabro fratello. 1975, che poi mano a mano mi si annunciava invece lieto, e mi pareva che Carlo tutelasse il mio bel compleanno di Roma, da lui sempre festeggiato, con un quadro come dono, segnato dalla data. Pierpaolo, Moravia, Raffael, Goffredo Petrassi, Cagli, Patti, e tanti, tanti, tanti ancora amici, stretti a qualche letizia. Moraria, un'altra allegria, aveva litigato con Pierpaolo per l'aborto sul Corriere. Rifecero pace quella sera a casa mia, poi il film con te, Pierpaolo. Le tè tre mattine di Mantua, così solitarie. Io e il mio lupo kinder sul 124, fra le brumose strade della bassa, e ne avevano pure qualche conforto. Metta le vecchie ville abbandonate nel loro gelo, il brulicare di nudi fanciulli e nude fanciulle, indifferenti gli uni alle altre, tra gli orrori di Sade. Pudichi i maschi, le mani a coprirsi il sesso e il sutto, libere invece le ragazze, snelle come vasi o come ninfe, mortificate solo dal freddo. Io, la narratrice coprofila, sacerdotessa macabra, verbalizzavo i riti della rappresentazione che il male e la morte rendevano sacrali. dunque è stata molte cose, perché se faceva i film dei telefoni bianchi, non che fosse facile farli, certo non erano un granché, anche se non tutti la cinematografia li tratta male o li ripudie. Ce ne sono alcuni di interesse notevole, al di là della proposta entro la quale sono incorniciati. I suoi libri sono molto strani, molto suoi. Non si saprebbe, volendo a tutti i costi collocarli, sono allievo di Anceschi, quindi a me verrebbe fatto, all'interno di una poetica. Perché la poetica c'è, ma è talmente disperata, è satalmente di guerra, di sofferenze, di lager, da fare pensare che la poetica sia lei, con questa sua vita sapiente e disperata. Penso, per esempio, una cosa che lei racconta in Ho visto partire il tuo treno, e che non sapevo. Del resto con Calvino avevamo una reciproca diffidenza a parlare di certe cose e non abbiamo mai alluso a lei, al suo mondo, alla sua vita, pur in tanti anni. Del resto Calvino Calvino era oggetto della costante presa in giro di me e Celati e quindi doveva più che altro difendersi. Ricordo in una tante sere che ho accenato a casa mia, che l'avevamo stretto vicino al luogo dove conservo, conservavo, tutti i libri di Hemingway. E così, facendo così, gliene cadevano. A un certo punto tiro su verdi colline d'Africa e poi, bravi mascalzoni tutti e due, non sono nemmeno un pelo nella barba di Hemingway e so di essere quello che sono. E così, dovemmo smettere di fare quelle cose. E poi c'è il mondo di via Umberto Biancamano, con quella incredibile monarca che era Einaudi, è venuto più volte, è venuto anche a sentire una mia lezione all'università. Vengo a controllare, diceva. Quel reame non c'è più, quella dimensione letteraria non c'è più. Sarebbe un disastro, però, se andasse anche perduta la memoria. Tanto snob quanto erano gli Einaudiani, quasi quasi dove sono adesso quasi tutti, non gli dispiacerebbe di essere trattati con un po' di non-salance che li metta un po' da parte. Ma non sarebbe assolutamente una cosa possibile, perché la grandezza di questa casa editrice appartiene alla storia d'Italia e viceversa. Cominciamo quindi a vedere i giochi e i naudiani. Quando esce la prima edizione del fiabe italiane, chi ancora ama Calvino? Perché? Perché i partigiani Meluschi e Viganò non dimenticavano mai, quando sera dopo sera andavo da loro a parlare, a ragionare, a leggere qualcosa insieme, di dire Xafel al tuo Calvino. Cosa fa il tuo Calvino? perché Calvino col 56, secondo loro, aveva tradito, era passato dall'altra parte. Il 56 vuol dire la rivolta ungherese e Calvino si era schierato con i rivoltosi e non col partito. Quindi uno scatafassio incredibile e era diventato al tocco al vino perché loro ne facevano a meno. Questa dimensione la troverete e sarà un bel trovarlo nella trilogia degli Antenati. Quando fa la prima edizione delle fiabe e sarà lui a consentirmi di accostare in uguale misura con la stessa forza editoriale le mie fiabe più amate, cioè quelle di Emma Perodi, nei millenni, che altrimenti sarebbe finito, con mio grande dispiacere, nei Tascabili e Inaudi, niente meno. Invece ho anch'io un millennio con la Perodi, perché Calvino era una grande persona, un grande amico. E a un certo punto c'è una dedica misteriosa a raggio di sole che complice Giulio non verrà ripetuta nelle edizioni successive. Raggio di sole è l'anagramma di Elsa De Giorgi, perché in quel momento Elsa era ancora coniugata con un uomo molto importante, il Sandrino amatissimo, che era anche un grande collezionista d'arte, tant'è vero che tra i suoi libri c'è la storia di questa collezione d'arte, che c'è un goia che mi sarei volentieri trasformato in ladro, perché mi fa morire ogni volta che lo vedo o tento di copiarlo. Quindi questa dimensione clandestina, che comincia sulla metà degli anni 50 e prosegue fino al fatale viaggio in Argentina, dove lui conosce, ci cita e la sposa, poi nasce Giovanna, che ha un maestro seguace di Frenet e quindi l'amicizia prende un lato pedagogico. Che cos'è raggio di sole? Cosa sono quelle fiabe? Evidentemente un segno di qualcosa di più, di un legame pure potentissimo strettissimo, ma nello stesso tempo un velame di clandestinità che li caratterizzerà entrambi. Infatti, se prendiamo dov'è lei e come è lei, abbiamo una sorpresa incredibile, perché lei è lei davvero. Chi la vede, chi ha visto i film, visto le fotografie, con l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia decidemmo di dare al Cinema Comunale di Casalecchio i film dei telefoni bianchi, con l'idea di far vedere i contenuti più nascosti del fascismo, che sono poi quelli che, essendo i contenuti dell'immaginario, si radicano di più. E questo è un discorso attualissimo, purtroppo. Si radicano di più e significano di più. E quindi bisogna davvero conoscerli, vedere il tipo di metafore, il tipo di atteggiamenti, di visioni, eccetera. Lei, peraltro, oltre che a essere Radio di Sole, compare nel terzo volume della trilogia degli Antenati. Ed è talmente lei da rassiare sbigottiti. Ma per quanto io purtroppo non mi sento di seguire citati, che non ha dubbio nell'affermare continuamente che il Novecento ha svettato solo in Calvino. Io sono un traditore. Io sono per Gadda. Per me l'incendio in Via Cheplero, nella Dalgisa, o la tristezza di quella mescolanza tra Argentina, torna di nuovo, e provincia di Bergamo, le camminate romane, il commissario in Gravallo, che pensa in abruzzese, parla in non romanesco ed è raccontato in italiano. Sono cose che non hanno uguali. Azzardo nel Novecento in nessuna letteratura. Gadda è lassù nell'impiazio. Mi dispiace. Vorrei tanto poter dire come citati. Allora, il terzo volume della trilogia ha per protagonista un barone che scappa. Non vuole più stare con noi. Vuole correre lassù sugli alberi e diventa il barone rampante perché rifiuta un po' tutto il mondo basso, ma in particolare l'atroce sorella che fa da mangiare in modo nefando e che lui è stanco di mangiare quei cibi. E intanto invecchia, Cosimo Piovasco di Rondò, come si chiama, invecchia lassù e passano gli anni. E un certo giorno c'è il ritorno di un meraviglioso amore infantile, quasi adolesenziale. Ma sentì un rumore. Era lo zoccolo del cavallo bianco sulla ghiaia. Veniva per il giardino non più di corsa, come se la massone volesse guardare e riconoscere minutamente ogni cosa. Dei cavalieri siocchi non si sentiva più alcun segno. Doveva aver fatto perdere del tutto le sue tracce. La vide. Faceva il giro della vasca, del chioschetto, delle anfore. Guardava le piante divenute enormi, con pendenti radici aeree, le magnolie diventate un bosco. Ma non vedeva lui. Lui che cercava di chiamarla col tubare dell'upupa, col trillo della pispola, con suoni che si perdevano nel fitto cinguettio degli uccelli del giardino. Era smontata di sella. Andava a piedi, conducendosi dietro il cavallo per le briglie. Giunse alla villa, lasciò il cavallo, entrò nel portico. Scoppiò a gridare. Ortenzia, Grettano, Tarquinio. Qui c'è da dare il bianco, da riverniciare le persiane, da appendere gli arazzi. E voglio qui il tavolo, l'ala con sol, in mezzo alla spinetta. I quadri sono tutti da cambiare di posto. Cosimo s'accorse allora che quella casa che al suo sguardo distratto era parsa, chiusa e disabitata come sempre, era invece adesso aperta, piena di persone, servitori che pulivano, rassettavano, davano aria, mettevano posto mobili, battevano tappeti. Era Viola che ricordava. Era Viola che ritornava, dunque. Viola che si ristabiliva a Ombrosa, che riprendeva possesso della villa da cui era partita bambina. E il batticuore di gioia in petto a Cosimo non era però molto dissimile da un batticuore di paura, perché esserla e tornata, averla sotto gli occhi, così imprevedibile e fiera, poteva voler dire non averla mai più, nemmeno nel ricordo, nemmeno in quel segreto profumo di foglie e color della luce attraverso il verde, poteva voler dire che lui sarebbe stato obbligato a fuggirla e così fuggire anche la prima memoria di lei, fanciulla. Con quell'alterno batticuore, Cosimo la vedeva muoversi in mezzo alla servitù, facendo trasportare divani, clavicemvali, cantoniere, e poi passare in fretta in giardino e rimontare a cavallo, rincorsa dello scuolo della gente che attendeva ancora ordine e adesso si rivolgeva ai giardinieri, dicendo come dovevano riordinare le aeole, incolte, ridisporre nei viali la ghiaia portata via delle piogge, rimettere le sedie di vittmini, l'altalena. Dell'altalena indicò con ampi gesti il ramo dal quale era appeso una volta e doveva essere riappesa ora e quanto lunghe dovevano essere le funi e l'ampiezza della corsa e così dicendo, col gesto e lo sguardo, andò fino all'arbero di Magnoglia sul quale Cosimo una volta le era apparso, e sull'arbero di Magnoglia, ecco, lo rivide. Fu sorpresa, molto. Non dicano, certo, si riprese subito, fece la sufficiente, al suo solito modo, ma di per lì fu molto sorpresa e le risero gli occhi, la bocca e un dente che aveva proprio come quando era bambina. Tu, e poi cercando il tono di chi parla di una cosa naturale, ma non riuscendo a nascondere il suo compiaciuto interesse, e così sei rimasto qui, da allora, senza mai sentere, Cosimo riuscì a trasformare quella voce che gli voleva usire come un grido di un passaro, in un, sì, sono io, Viola, ti ricordi? Senza mai, proprio mai, posare un piede in terra, mai, e lei, già come se fosse concessa troppa, ah, vedi che ci sei riuscito, allora vuol dire che non era difficile, aspettavo il tuo ritorno, benissimo, ehi voi, dove portate quella tenda? La siete tutto qui, che veda io? Tornò a guardare lui, Cosimo quel giorno era vestito da caccia, irsuto, col berretto di gatto, con lo schioppo, sembri Robinson, l'hai letto? disse subito lui, per sarsi vedere al corrente, Viola si era già voltata, Gaetano, Ampeglio, le foglie secche, è pieno di foglie secche, e a lui, tra un'ora in fondo al parco, aspettami, e corse via a dar ordini al cavallo, Cosimo si gettò nel folto, avrebbe voluto che fosse mille volte più folto, una valanga di foglie, di rami e spini, e caprifogli, e capelvene, da affondarci, e sprofondarci, e solo dopo esserci si del tutto sommerso, cominciare a capire, se era felice, o folle di paura. E' qualche cosa che, rimanda a un bellissimo libro di, Gianni Rodari, c'era due volte il barone Lamberto, dove Lamberto è scopertamente Giulio, e com'era questa redazione, com'era via Umberto Biancamano, quali erano le allusioni, i giochi, che si giocava parecchio su questa coppia, e ne ho un riscontro, nell'indimenticabile amico, che fece tutti i miei libri, e che ha lasciato anche lui una memoria, ma più di tutto vale, c'era due volte il barone Lamberto, di Gianni Rodari, e le lettere di Rodari, appunto, a Giulio. In questa irripetibilità, lei continua a pormi tantissimi interrogativi, per esempio, per esempio, e lo diciamo dopo questa tornata elettorale, perché è così sparito i coetanei? Oso qui fare un'affermazione che susciterà molte perplessità. Io trovo questo, il romanzo della resistenza italiana, perché se penso a Cassola, se penso al mio amico carissimo Nuto Revelli, se penso ai 23 giorni della città di Alba, insomma, ai grandi libri, compreso il sentiero di Nivi di Ragno, di Calvino, non ci trovo quello che è nei coetanei. Intanto è scritto come dovrebbero essere scritti, i libri sulla resistenza. È aspro, è duro. Tocca, per la sapienza dell'autrice, i toni espressionistici che così raramente tocca la nostra letteratura, perché non bisogna dimenticare che il ventennio coincideva con il trionfo dell'espressionismo in pittura e in letteratura, e quindi noi ne eravamo tagliati fuori. Noi abbiamo gli indifferenti di Moravia, non Berlin Alexanderplatz. È uno scorporo di cui bisogna tenere moltissimo conto, ma è molto molto diverso quello che la De Giorgi racconta invece nei coetanei. A partire da una riflessione che mi preme moltissimo. Se io in titolo libro «I coetanei» faccio un tipo di scelta psicopedagogica e filosofica che rimanda a un filosofo per cui ho un'immensa ammirazione, cos'è Ortega e Gassetta. Perché cos'è Ortega ha in mente come principio fondante della sua filosofia l'essere appartenenti alla stessa generazione. Appartenere alla stessa generazione, quindi, è un dato coetanei così importante da doversi premettere a ogni altra considerazione. Però, un altro libro che mi lascia più domande che risposte, ed è «Storia di una donna bella», la prospettiva dei coetanei viene mantenuta, ma rovesciata di senso. Cioè, i coetanei del volume omonimo sono ribelli, non li piega nessuno. I coetanei di «Storia di una bella donna» sono piegati dal nazifascismo. credo che non capiremo mai il senso di questo doppio registro. Specialmente se aggiungeremo anche, ho visto partire il tuo treno, che è nel titolo «Il senso della disgrazia del loro amore». perché il loro amore non credo che sia terminato, ma si è drammaticamente interrotto per qualcosa che avvenne a lei. Lei era la moglie di un eroe della Resistenza. Sandrino, spesso ricordato, il conte Bonacossi, era collezionista d'arte, era discendente di una nobilissima famiglia e osò fare di quelle cose assolutamente incredibili fatte nei confronti degli SS, che è tutto un programma. Ma poi è scomparso. A un certo punto non c'è stato più. Quindi ho visto partire il tuo treno, è troppo o triplo. È Calvino che si addolora di vedere partire il treno di Elsa o Elsa che si addolora di non aver visto partire il treno di Sandrino. Sono cose che avrebbero un grosso riverbero non solo emotivo, ma anche filosofico esistenziale, qualora si potesse studiare davvero, e lo si fa male e poco, quei misteriosi anni 50-60 di cui ogni tanto viene fuori qualche piccola cronaca, qualche piccolo indizio, ma mai quello che servirebbe veramente. All'ogni modo questa cosa che trovo qui è una cosa che mi colpisse moltissimo perché ho studiato lei, perché so chi era. Ho anche scritto sulla stessa rivista dove lei scriveva, Il caffè di Giovanni Battista Vicari. Quindi ci sono stati degli strani incroci. Propongo alla lettura questo brano. E' difficile molto anche per me dargli davvero un senso. Il gerarca sbirciava Elena, che conosceva a malapena, e si capiva che avrebbe voluto essere lui ad andare verso loro per chiacchierare con lei, ma le due donne lo presero in mezzo a braccetto e lo trascinarono verso il bar, garrendo come due rondini. Elena poté finalmente sedersi al tavolo di scrittura. Scrivo dall'al di un albergo, cominciò, e lo nominò, sapendo che era un buon metodo con lui a riferirsi a circostanze precise per interessarlo alla sua vita romana. Ma qui si arrestò, rimuginando, scoraggiata, si trovò a smordichiare la penna in un antico gesto scolastico di cui il sapore metallico della stilografica le restituiva l'impazzo. Fu allora che il sibilo della sirena, coperto da un fragore orrendo, penetrò e sconvolse la pace ombrosa della grande hall. Una folle enorme si riversò dentro l'albergo come una mareggiata, gente di ogni genere, spinta dalla strada, improvvisamente fusa a quella privilegiata che già si trovava nell'albergo. «Bombardano Roma!» urlò la voce atterrita di qualcuno precipitato dentro. «Bombardano Roma!» faceva eco un'altra voce smorta e stupefatta. «Ma che bombardano!» «Non la ponno bombardà!» ghignava strunfante e isterico un tizio sdentato. «A Roma c'è il Vaticano!» «I papa gli dà la scomunica se bombardano!» «Se ne freghiano della scomunica quelli!» urlò quasi pacato un grasso sudato, la camicia aperta sul petto peloso. Parlava scandito, come chi spiega con amara pazienza ovvie verità a dei fanatici. «Se ne freghiano!» «Se lo doveva dà a qualcuno la scomunica a sto papa l'aveva da dà a chi l'ha comminciata sta guerra!» «Madonna!» «Il figlio mio, tanto me l'hanno già ammazzato!» si confidò piano una donnetta ai più vicini e poi si buttò in ginocchio come un censo proprio accanto ad Elna. Le fecero largo. «Vigliacchi!» urlò qualcun altro. «Vigliacchi!» ad ogni detonazione tremava la terra. «Vigliacchi!» ripeteva qualcuno sempre più debolmente, quasi si fosse obbligato a quella gioculatoria. I colpi si facevano paurosamente vicini. Una specchiere immensa andò in frantumi. Branchi di gente si raggruppavano per fuggire nei sottosuori dove erano le toilette, il parrucchiere, ma riapparvero subito come una mandria impazzita. «Se una bomba cade lì, si fa tutti la fine del sorcio!» dissero ai rimasti. Quasi si fossero mossi per loro consiglio o li accusassero di non averli trattenuti. Il gerarca e Mara con la madre si erano addossati al muro, scostati al banco del bar dove bicchieri e bottiglie rovinavano ad ogni colpo. La dori col produttore si rastretta loro, bianca come la luna. La sua faccia offriva, nuda, la grande ferita della bocca. Dal tavolo di scrittura dove era seduta Elena li aveva tutti davanti. La donnetta le appoggiava la testa sul fianco continuando a invocare la Madonna e Romoletto che doveva essere il nome del figlio. I tompi sembravano schiantare la terra nel profondo. A un tratto uno strillo acuto prolungato vinse ogni strepido. Era Mara che si divincolava nelle braccia della madre scalciando, graffiandole e poi picchiava i pugni sul petto Gergerarca che cercava in vano di afferrarle i polsi e riprendeva a graffiare tutti e due con metodo sul ritmo di quello strillo interminabile. C'ha ragione a Menai se lo può farlo. «Porci assassini! C'è stata famori noi, le figlie nostre, per le vostre gozzoviglie!» Era l'uomo alto e grasso che parlava con voce tranquilla e altissima coprendo perfino gli strilli di Mara. Il Gerarca districando la propria testa dalle mani di Mara buttò ragazza contro il Pepp di Manunci abbandonandola al loro privato conflitto. Nel sollevarle le braccia per immorizzarla essa aveva avvigliato le dita tra i pochi capelli erti nel suo cranio lucido e nero di sole e le unghiette avevano lasciato sul viso segni irriverenti. Non sapendolo fatto forte dal disagio che l'affronto dell'uomo grasso con rallentare dei colpi aveva suscitato intorno avanzò verso di lui compiglio militare dandogli del voi gli intimori dagli nome e cognome io non dico proprio niente riposo impassibile l'uomo grasso mica siete un vigile urbano voi poi con tono confidenziale come se volesse cominciare un discorso ragionevole disse ho fatto quell'antra guerra c'è sostaro ruanni sotto le bomba morire freddo dei pidocchi ma allora non c'è stavano i ragazzini urlò ancora l'improvviso quasi trionfante con quella voce tranquilla nelle donne come quella che gli avete assassinato già gli figli e indicava la donnetta inginocchiata vicino ad Elena ora fa impressione che questo sia l'ultimo della serie delle memorie di guerra e contiene una veridica disperazione che chi come noi c'è stato conosce benissimo perché era uguale dappertutto i rifugi la fame le bombe la perdita della vita a un metro di distanza oppure no quindi la sorte incalcolabile però francamente solo nella attrice Elsa De Giorgi se aspiriana o telefoni bianchi è indifferente io l'ho trovato e mi ha lasciato un sacco di domande e tante di più ho da rivolgere ormai non c'è più modo ma sarebbe da rivolgere appunto a lei perché questa io la so in maniera del tutto diverso ma non ho motivo di dubitare che lei dica la verità la sera clandestinamente entrò in carcere il giornale d'Italia e fu letto il secco comunicato del massacro si taceva il luogo dove era avvenuto di rimpetto alla finestra dell'infermeria si vedevano detenuti del quarto braccio uno di loro dice domani saranno uccisi altri sedici italiani perché sono morti altri tre tedeschi Antonello e il maresialo si mettono a cantare come forse nati domani tocca noi domani tocca noi ormai erano certi davvero di uscire di là solo per morire le guardie e i caratterieri guardavano i detenuti con il rispetto e l'umità con cui si guardano gli eroi dopo tre o quattro giorni dall'episodio della bomba a via rasella che covenne da me una mattina di buon'ora pallido aveva in mano alcune carte me le consegnò raccomandandomi di nasconderli la sera prima mi disse si è rappresentato da lui un piccolo prete salesiano e aveva raccontato che due bambini seguendo un filo elettrico spezzato con cui stavano giocando sull'appi antica avevano finito per entrare in una cava di tuff dove avevano visto un cadavere erano corsi a dirlo al loro prete che l'idea di ricorrere alla polossia fascista e tedesca terrorizzava anche loro facendosi guidare dai ragazzi il salesiano si era recato subito sul posto vide un morto e nel buio fondo intuì il nereggiare di molti molti altri corpi accattastati ma non aveva alcun mezzo per vedere meglio di antifascisti coraggiosi e sicuri conoscere solo quel mangiapreti di checco perciò si era precipitato da lui per chiedergli di tornare insieme sul posto con lampade e maschere nella notte si misero in cammino a piedi le mani in gombe degli oggetti necessari il prete guidava sicuro nel buio dall'appi antica arrivarono verso le fosse ardeatine la grossa parete di tuffo era stata fatta crollare con le mine certo allo scopo di nascondere l'imbocco e appariva come una grande macerie ansanti e sudati checco e il salesian scavalcarono i dirupi fino a ritrovare un pertugio nel sorridoio della casa accatastati come le tegole di un tetto videro la serie sterminata dei morti corparsi di pozzolatica e bitume apparivano a prima vista come un grande monte di immondezza così in piedi imbrattati di quella materia peciosa che ancora li stringeva l'uno all'altro parevano fantocci pervasi di una loro macabra vita la morte non doveva averli colti insieme su molti di loro l'agonia aveva giocato a lungo lasciandovi il suo segno una mano si raggruppava con torta ridida sulla prete in un gesto di ribellione quando i due uscirono di lì un'alba paonazza sorgeva sui primi cipressi dell'appia entrambi avevano il permesso per il coprifuoco il prete pregava intensamente che cotaceva per la prima volta in vita sua si trovava d'accordo con un prete e per giunta pregava sui fogli che mi consegnò c'era quanto avevano visto e il luogo la relazione era firmata da lui e dal salesiano nascosi le carte fra le pagine di una vecchia edizione di Molière che tenevo sugli scaffali più alti della mia libreria dove rimase fino a liberazione nonostante le due perquisizioni dei tedeschi alla mia casa entrambe le volte ebbi il tempo di far fuggire i rifugiati ma non quello di arrampicarmi sulla biblioteca per tornere il raccapricciante documento ma per fortuna Molière non incuriosì i tedeschi è una rivelazione sconcertante e molto sottovalutata c'è stata il fatto che lei ad avere scoperto il segreto delle forze ardiatine perché era andata così in via Rasella due partigiani una donna avevano messo una bomba in un deposito di immondizie erano passati marciando dei reclutati altoatesini in forza con le SS la bomba era saltata erano morti e si era deciso da parte di Kesterling di uccidere dieci italiani per ogni tedesco morto 330 però all'improvviso trovandosi i 330 cadaveri avevano avuto paura del fatto di dover poi parlarne al mondo perché gli americani erano in vista dell'appia e quindi avevano riempito di catrame e altre lordure le cave perché nessuno li trovasse risulta che li abbia trovati Elsa De Giorgi è una cosa che non sapevo ed è una dimensione quella di Elsa in guerra quella di un'attrice da telefoni bianchi o da tragedie sexpiriane che raccoglie per prima il messaggio terrificante orribilmente funereo dei massacrati delle Ardeatine è qualcosa che spinge a una riflessione cosa sappiamo di questa scrittrice quanto dovremmo sapere per leggerla davvero per capirla davvero e allora è tutto questo corso che acquisisce una connotazione ulteriore rispetto a quella indicata nelle premesse nelle presentazioni nei documenti forniti e rispetto al fatto che siamo arrivati non lontanissimi dalla fine cosa si sa di queste scrittrici allora dove vanno a finire perché non lo so ai più giovani forse non fa questo effetto ma per me scoprire che è lei ad avere avuto per prima menzione dell'orrore di quel massacro e in questi giorni in cui si gioca a dimenticare a fuorviare a far sparire a cancellare e vi è più importante scoprire che un poco di silenzio fu in altre occasioni già posto su questa testimonianza è perché è perché era una donna è perché era un'attrice è perché era bella così bella è perché aveva un modo questo modo non sottomesso non da sussurro non da dolcificazione al femminile ma anzi al tutt'altro con una forza tremenda di comunicazione tragica che la fa sentire traduttrice di Shakespeare e sono molto belle anche le note sexpiriane conostenuti in questi libri non so se riesco a dare l'idea dell'effetto che mi fa scoprire che perfino nei confronti di una rivelazione così terrificante una donna scrittrice è costretta ad abbassare il tono quasi a dire lo so per caso quasi a dire non è nemmeno colpa mia se ero e se sono in grado di portare quella rivelazione a conoscenza come ma dove sono questi libri che sono libri fondamentali sono libri che invece che comparire nella nuova sinistra di Samonà e Savelli dovevano uscire dai Naudi e perché nei Naudi non ha più ristampato i coetanei che in prima edizione aveva stampato cosa succede di così grandi presenze all'interno di una dimensione anche di livello indiscusso di forza prorompente è tutto quello che bisognerà studiare e capire se non posso presentare un prodotto finito è vero che sono un seguace di Bertin quindi non lo farei mai ma è anche vero che qui un prodotto finito non c'è c'è da lavorare perché qualcuno ha evidentemente nuociuto Elsa De Giorgi fino a farle esprimere quel dolore della poesia relativo al 75 ma fino anche a collocarla in una dimensione talmente sottovalutativa che non sono pochi i testi critici sulla letteratura resistenziale che non la comprendono che non la nominano quindi tutto assolutamente da capire da ritornare a proporre alla luce del contrasto che si ha tra storia di una bella donna e i coetanei perché mentre i coetanei è una norazione fieramente resistenziale con perfino questa notificazione storia di una bella donna è una sorta di presa di distanza questa bella donna fa molti film va anche in Germania a girare ed era cosa da guardarsi in un certo modo insomma non è lei storia di una bella donna non è affatto autobiografico ma è un testo in cui rispetto alla protagonista si prendono le distanze salvo però a considerare che se non fosse così bella non potrebbe essere tanto ricercata tanto inseguita tanto coinvolta non sono in grado di fornire un'ermeneutica di storia di una donna bella come quella che vorrei fornire perché perché mi mancano le pezze d'appoggio pubbliche non ho i giornali dell'epoca sono andato di corsa perché invece ho una tremenda collezione del giornale di guerra dei soldati tedeschi Signal giornale tra i più belli non per i contenuti ovviamente per la forma contiene strepitosi acquarelli immagini coraggiosissime un impaginato che fu poi copiato nel dopoguerra io Signal ce l'ho tutto e cose di questo genere non non compaiono mi è venuta l'idea che abbia voluto fare quello che a un certo punto prima di morire ha fatto Pasolini con Salò in fondo cos'è il testamento Salò di Pasolini è guardate che era molto peggio di come le storie e i romanzi vanno raccontando era qualche cosa che non rimanda a una storia italiana ma a Sad questo è il messaggio in punto di morte di Pasolini forse storia di una donna bella che però è anteriore cinque anni prima del Salò di Pasolini questo mi spinge a una riflessione di questo genere si sa poco di queste presenze si sa poco di questo periodo si conoscono poco le contraddizioni che in questo periodo si manifestarono si nasconde molto nel senso che dove lo vado a cercare i coetanei che è un libro inaudi ma che inaudi si rifiuta di stampare allora una piccola casa editrice la Leonardo lo stampa allora la casa editrice Leonardo non c'è più e quindi è piuttosto grave che questo capitolo secondo me è fondamentale il secondo capitolo non si possa leggere non si possa dire uscite andatevelo a prendere perché perché qui si imparano le cose che sarebbe molto importante sapere adesso capitolo secondo di i coetanei di Elsa de Giorgi a Cinecetta c'era un gran fermento quel giorno tutti i teatri erano in attività si giravano contemporaneamente sette film al centro sperimentale se ne giravano altri due poi altri ancora la scalera la farnesina a Venezia in tutto erano una trentina di pellicoli in lavorazione nello stesso tempo un ritmo intensissimo mai visto il luce stesso l'aveva sottolineato pochi giorni prima proprio al centro sperimentale durante la solenne cerimonia della sua visita alcune delle quali una delle rare dive di tipo fatale che vantasse la cinematografia nazionale mi era balzata addosso nascondendogli il viso glabro sotto il suo grande cappello nero seppellendo così nel mistero i particolari più ghiotti di quello storico bacio aveva adoperato quel cappellone fatalissimo con la tecnica consumata con cui le donnine dell'ottocento usavano l'ombrellino Mussolini in verità fu piuttosto sorpreso e ci restò male perché certo non se l'aspettava poi dovete rimanergli il sospetto sgradevole di avere ancora il rossetto di traverso sulla bocca ma si riprese pronto e sorrise gagliardo il sorriso della specifica occasione furbo goloso e plebeo e gli organizzatori della cerimonia andarono in visibilio per il gesto geniale dell'industria diva che era riuscita a creare quel clima di apoteosi la torniarano con clamorosi complimenti mentre lei se ne stava tutta dura chiusa in un piccolo pianto convulso e trionfante insomma si lavorava a Cina città quel giorno e nessuno si aspettava ciò che avvenne ero al trucco quando cominciai a sentire che ci sarebbe stato il discorso di Mussolini a piazza Venezia e che gli operai avevano l'obbligo di andarci tutti erano sereni e fiduciosi il produttore che si lasciava chiamare ingegnere senza esserlo una variante felice finalmente sul titolo obbligatorio di comandatore distribuito con generosità nell'ambiente cinematografico entrò nella sala del trucco per vedere a che punto fossero gli attori principali stavo disegnandomi la linea delle labbre con il lapis scuro sopra il cerone dunque non si gira chiese interrompendo l'accurato lavoro come non si gira rispose scandalizzato l'ingegnere sgranandomi in faccia a questi suoi occhi chiari e furbi gli operai disse sarebbero tornati subito dopo il discorso del duce li mandavano apposta tutti insieme con un torpedone per riportarli indietro senza spreco di tempo intanto in quelle due ore si ritoccava la cena gli attori potevano provare le loro battute il discorso quelli che non ci andavano se lo sarebbero sentiti alla radio del ristorante di seconda ma non c'era da aspettarsi niente di nuovo certo l'ingegnere parlava sicuro come se fosse stato personalmente informato era un uomo giovane assiutto virile fortunatissimo da poco era passato alla produzione dopo aver gestito sale cinematografico con solidi risultati si diceva che avesse un grande fiuto cosa vuole che le dica continuava con implacabile ottimismo rispondendo al mio sguardo perplesso il duce darà l'assicurazione della nostra neutralità resteremo neutrali fuori dalla guerra ormai questo l'ha ribadito anche ai tedeschi pochi giorni prima era caduta a Parigi e l'idea della Francia invasa mi aveva profondamente turbata non potevo levarmi dal pensiero la carissima città dove avevo lavorato e capito tante cose con i tedeschi che marciavano metodici e spavaldi per i suoi boulevard mi sentivo solo impotente sommersa da sentimenti che la confusione dei tempi e la giovinezza impedivano di esprimere il giorno in cui Parigi cadde lo appresi mentre ero in teatro e allora scoppiai in singhiozza fra le braccia di un attore che pur non condividendo tanta commuzione mi confortò in tenerito eppure egli era intelligente ricco di originalità capace di capire quello che provavo ma era legato da amicizia a qualche grosso gerarca aveva girato dei film in Germania e anche lui preferiva credere al gioco degli stivaloni e dei piumacchi anche se ogni tanto si divertiva a fare la parodia di questo o quel gerarca era Osvaldo Valenti perché si interrompe perché diventerà un celebre torturatore di partigiani celebre nel modo più tremendo e avrà come compagna Luisa Ferida verranno catturati e fucilati subito il 25 aprile lei qui pone un problema dei tanti che pone perché è abilissima nel mostrare Valenti come simpatico coraggioso leale ottimo collega e sottilmente anche critico nei confronti del regime che siano stati due torturatori accaniti e vi assicuro che quando all'ampi mi hanno fatto vedere il pacco delle fotografie dei torturati io sono svenuto e non ero mai svenuto in vita mia sono proprio crollato sono depositati negli archivi dell'ampi cos'era successo a Valenti e alla Feride cos'è propriamente quel periodo che cosa succede in periodi come quello e perché non abbiamo a disposizione i coetanei e perché lei Naudi non l'ha mai ristampato sono tutte domande che non sono domande retoriche il corso quando è nato l'anno scorso nel proposito proprio queste domande sullo scrivere al femminile si voleva porre lei ha visto capito e documentato presto molto presto questo libro è datato 1954 nove anni dopo gli accadimenti ma non c'è più a Firenze raccontava la vita si era striminzita con la partenza in massa di quasi tutti gli inglesi che popolavano le belle ville sul Fiesolano sulla via Bolognese e a bello sguardo ma l'aristocrazia continuava a popolare via Tornabuoni a mezzogiorno stipandosi dal Donai e da Giacosa dove impassibile sgranocchiava pasticcini e salatini deprecabili per il razionamento e l'accortezza di chi li confezionava curandone con grande abilità l'apparenza in quell'ora a Firenze la guerra si fermava a via Tornabuoni per un miracolo di stile che avrebbe davvero meritato di essere di marca inglese per il resto come a Roma in quella società la gente moriva e combatteva dignitosa purtroppo sempre la retorica veniva a sovrapporsi al dolore per quelle morti immature insomma Firenze non si comportava in quel primo anno di guerra troppo diversamente da cento altre città d'Italia si scrivevano le solite lettere anonime al partito per denunciare qualche disfattista i mancati versamenti all'ammasso il possessore della doppia carta nonaria o il signore a cui era stata risparmiata la cancellata di ferro una storia monotona che lo scoppio della guerra non aveva ravvivato però si rispettava puntino il rigore del razionamento c'era un prefetto che mirava alla medaglia d'oro al merito per saper imporre alla città una fame giusta e disciplinata quella medaglia poi guadagnata spicca ancora oggi legittimamente tra i meriti di quel prefetto è una dimensione di tutto osservato tutto visto tutto conosciuto tutto raccontato e tutto in fondo fatto come cadere perché non l'abbiamo a disposizione non possiamo se vorremmo anche direttamente conoscerla e questo è un grosso guaio che probabilmente è un indizio di altri guai che riguardano questo tipo di letteratura questo tipo di presenze anche ahimè un certo tipo di condotta editoriale sei troppo bella per scrivere mi diceva e fu feroce nell'impegno di impedirmelo tentava senza riuscirvi di leggere quello che scrivevo per scoraggiarmi tu la vita la devi vivere insegnare vivendola non scriverla non scriverla vai a curvare le tue belle spalle l'assia che scrivano i brutti beffarda scuoteva la splendida testa come una criniera quella testa che tante volte Carlo Levi aveva disegnato e dipinto anche quando in esilio a Eboli la sognava e lei pregiudicatamente se ne andava a trovarlo in pieno fascismo al confine sfidando convenzioni e ipocrisie quando Paolo attese la mano a Calvino capì che lui non la riconosceva tanto che dovette precisargli Calvino sono la sorella di Natalia Ginburg e questo allora lo sciolse chiese subito notizie dell'amica con sollievo e premura l'aspetto di Calvino era dimesso nonostante la volitività del bel viso Bruno era vestito in una convenzionalità da piccolo burocrate ben lontana dalla non salantra aggressiva bohemiene spavarda degli intellettuali romani di allora specialmente fra i giovani la ruga che si imponeva tra gli occhi neri mobili e attenti conferiva una certa severità al viso stretto da uccello troppo piccolo sul collo lungo e forte che lo sollevava bello il mento stagliato non correggeva però un che di pietoso nel sorriso che pareva inturgidire le labbra rosse anziché distenderle su una chiorta di denti non candidi un po' da roditore volti all'interno aveva già notato durante la conferenza la stessa disarmonia sulla sua bocca nel pronunciare le vocali o e u come se per emettere il suono dovete estrarle da una profondità innaturale ed espressione obbligata a sgretolasse la compostezza del viso severo guardandomi Calvino nello stringermi la mano che gli porgevo ebbe un moto di meraviglia che gli disegnò sulla faccia quella o e ve la conservò per qualche istante qualcuno chiamandomi contessa gli chierì meglio chi ero e allora sembrò volersi liberare da quella sorta di ammirata soggezione che animò di curiosità sorvegliata in realtà allegrissima oh ma io devo parlarle appunto e si capiva che in quella constatazione di dover proprio a me che lo metteva di buon umore dover parlare proprio a me la ruga tra le ciglie nere tornò a schermare gli occhi inquieti ma la voce aveva ripreso quella sonorità lievemente sopratono in quel gioco recitativo che aveva notato durante la conferenza molto bello l'accenno alle donne di Pavese gli dissi mi guardò colpito da un pensiero e indugiando a guardarmi quasi possessivamente da capo a piedi si distese in un sorriso a labbra chiuse e senza ironia a Pavese sarebbe piaciuto il suo libro anzi gli sarebbe piaciuto a lei mi diceva il buon Giulio Inaudi quelle robe che ti racconta che il vino nelle cene a casa tua perché non gliele fai scrivere la conoscenza fra i suoi genitori era avvenuta così il babbo insegnava botanica all'università di Genova c'era una ventina quasi sempre ragazze la prima lei si mette in fondo che l'interrogo per ultima l'interrogo le dà la lode poi fa scusi mi sposerebbe e lei fa sì ah allora siamo a posto veda ho bisogno di un pretto di una moglie perché sono stato nominato a dirigere a Cuba l'orto botanico dirigere fabbricarlo vuol che vada via da solo uno l'altra in salotto tenevano incorniciata la Pravda l'organo russo dei rivoluzionari e della Russia e c'era una grande fotografia dell'anarchico assassino e traditore Floriano Calvino appena fucilato nel luogo dovuto cioè dietro le carceri ecco anarchico militante aveva dato per l'espattrio la carta di identità a un suo amico che era stato fucilato e vivevano in questa dimensione irreale mi dispiace che non l'abbia raccontato quello che a me ad Anna invece ha raccontato commovendosi e diventando diverso il giardino vicino al suo era di proprietà di Antonio Rubino il factotum del Corriere dei Piccoli aveva perfino disegnato Corriere dei Piccoli quello che faceva i personaggi mirabili uno più bello dell'altro e gli voleva talmente bene che gli ha regalato tantissimi personaggi che poi non ha fatto e certo noi pedagogisti non ci lasciamo sfuggire l'occasione di pensare che avere l'infanzia connotata da il creatore delle rimette terrificanti del Corriere dei Piccoli Toffoletto Panza Vuota ha una rarità che nell'oro egli non nuota nuota nella povertà erano micidiali gli ottonari Bilbolbul quel cattivone lo diciamo a suo disdoro nel domestico Tukul ha rubato un soldo d'oro e ogni metafora che veniva posta in essere la verificava anche col corpo dalla gioia toccò il cielo con un dito e si vedeva il cielo diventare 18 chilometri e quello è stato il compagno di infanzia abbiamo una stupenda veramente Fabian Burkel e pertanto consegniamo alla storia a voi a chi vorrà fare tutto quello che c'è ancora da fare la storia di questa coppia la storia di questa stupefacente presenza quel mondo i coetanei il rapporto con l'oggi oggi oggi questa infelicità così difficile a capirsi perché questo me l'ha detto lui senza nominarla mai mi ha detto nelle cosmi comiche ti raccomando e si indulgente se ne scrivi lo zio acquatico voi sapete che è uno che ha già le gambine ed è fierissimo perché è l'innamorato di una che ha le gambine anche lei e decidono di sposarsi e a un certo punto allora vanno a trovare il punto di riferimento massimo della famiglia che le gambine non le vuole perché è rimasto pace e se ne sta la la ragazzina che le gambine ce le ha si innamora e rigredisce e ridiventa pese come lo zio l'avevo perduta no dubbio mi precipitai a rinconquistare presi compiere prudezze nella caccia agli insati volanti nel salto nello scavare tante tane sotterranee nella lotta coi più forti dei nostri ero fiero di me stesso ma purtroppo ogni volta che facevo qualcosa di valoroso lei non era lì a vedermi pariva continuamente non si sapeva dove andasse a nascondersi finalmente capì andava alla laguna dove il prozio le insegnava a nuotare sott'acqua li vidi a fiorare insieme filavano a pari velocità sembravano fratella e sorella sai fece lei allegra vedendomi le zampe funzionano benissimo da pinne brava un bel passo avanti non potei fare meno di commentare con sarcasmo ma era un gioco per lei lo capivo ma un gioco che non mi piaceva dovevo richiamarla dalla realtà al futuro che ci attendeva un giorno lo aspettai in mezzo a un bosco di alte feci che scendeva sull'acqua ho da parlarti disse appena lo vidi dai che adesso ti sei divertita abbastanza abbiamo cose più importanti davanti a noi ho scoperto un passaggio nella catena dei monti di là si estende un'immensa pianura di pietra abbandonata da poco dalle acque saremo i primi a stabilirci là popoleremo territori sconfinati noi e i nostri figli il mare è sconfinato disse l ma smettila di ripetere quelle fandoni e cretine di quel vecchio rimbambito il mondo è di chi è la gambe non dei pesci lo sai so che lui è uno che è uno disse lui e io nessuno di quelli con le gambe che sia uno come lui e la famiglia ci ha litigato tanto non ha mai capito niente ma sei matta non si può tornare indietro io sì e cosa vuoi fare tu solo con un vecchio pesce sposarlo e tornare pesce con lui e mettere al mondo tanti altri pesci addio e con un'ultima arrampicata delle sue salì fino in cima ad un'alta foglia di felce l'inchinò verso la laguna si lasciò andare in un tuffo riemerse ma non era la sola l'arbusta coda falcata del prozio nbo ngo affierò vicino la sua e insieme vendettero le acque fu una torta per me ma poi che farci continuai la mia strada in mezzo alle trasformazioni del mondo trasformandomi anch'io ogni tanto tra le tante forme degli esseri viventi incontravo qualcuno che era uno più di quanto io non lo fosse uno che annunciava il futuro ornitorinco che allatta il piccolo uscito dall'uovo giraffa lampanata in mezzo alla vegetazione ancora bassa uno che testimoniava un passato senza ritorno dinosauro superstite dopo che era cominciato il cenozoico oppure coccodrillo un passato che aveva trovato il modo di convorsarsi immobili nei secoli tutti costoro avevano qualcosa lo so che li rendeva in qualche modo superiore a me sublimi e che rendeva me in confronto a loro mediocre eppure non mi sarei cambiato con nessuno di loro allora Fabien Burkel la si comincia a conoscere come vedete con un uso strepitoso della sapienza e delle tempere ovviamente riesce a riempire di citazioni che sono pittoriche storiche stilistiche di romanzo si va da Proust ai surrealisti da De Chirico a James Sensor il tutto raccolto in questa mirabile capacità di sintesi pittorica questa storia che è una storia di interni che è una storia di vissuto culturale che è una storia di cose meravigliose da vedere da collezionare non solo quadri anche oggetti l'autrice la rivolte ai ragazzini e alle bambine e fa ultra bene perché bisogna proprio sfondare questo muro di omertà che non consente di portare l'alto livello stilistico ai giovanissimi e lei invece lo fa in termini anche di doverosa paura perché gli anterior borghesi rimandano molto spesso al giallo questo nero mi attrae moltissimo e anche la sua straordinaria capacità di ammobiliare di prendere tutti i particolari di datare solennemente ogni apparenza fino alla spettrale capacità di quei buchi finestre bianchi nel nero e alla disposizione antiprospettica dell'insieme che è contraria ai quadri dove si rifà ma non mettendo voyard bonard i post impressionisti francesi e riportandoli all'ansia dell'oggi e questi sono dal mio punto di vista autentici miracoli perché la possanza di questo nero è interrotta da una serie di citazioni da soprammobili al gatto dalla pelliccia alla quinta istoriata che si pone sulla sinistra un'abilità tecnica favolosa perché ci vediamo i grandi pittori che citavo prima ma lei non ha bisogno poi di chiedere niente a nessuno perché di suo sa lavorare a tempera in modo quasi miracoloso e tutta questa borghesia francese di libri e di oggetti di particolari riferimenti libreschi o di notificazioni di memorie tutto è sotto controllo e tutto serve senza parole a raccontare di vita a far pensare a presenze a notificare esistenze in modo che è veramente mirabile fino ai particolari che sono tutti ricostruiti tutti inventati tutti così da far sentire come questa silenziosa avventura esistenziale può essere inventata ma anche credibile anche vera con lo stupendo particolare della scaffalatura scaffalatura messa quasi a definire un mondrian per conto suo e sempre con inesausta precisione inesausta verve di racconto vuoyard bonnard il mondo tra le due guerre mondo molto poco studiato che invece andò per quella strada chi volle preparare la seconda dopo l'immenso massacro della prima e questi interiore andrebbero molto molto meditati anche quello che hanno di più segreto da dirci e queste signore dietro quali compare sempre Marcel Proust ovviamente sembrano altrettante descrizioni delle sue Zanfils Zanfers le Zanfils Zanfers che costituiscono il referente di Marcel e nero com'è è proprio l'interieur di Marcel che è malato tanto nella vita quanto nel romanzo accuratissima ogni tipo di mobile di arredo e le citazioni pittoriche certo Bonnard Vuillard ma soprattutto è da ritenere che la grandissima illustratrice per fortuna contemporaneissima quindi ci farà vedere meraviglie ancora ci mostrerà ancora dove va dove volge la sua ricerca e la vedo molto collegabile a una dimensione come quella di Elsa De Giorgi perché Elsa non rifiuta gli ambienti non allontana le componenti non ci valeva nulla a tacere di Luisa Ferida e di Osvaldo Valenti perché sono state due icone talmente terribili e poco narrate poco spiegate perché nulla faceva pensare che questa coppia prima della guerra lei ha recitato con Valenti si trasformasse in una nefanda coppia di torturatori orrendi di partigiani e qualcosa rimanda da questo emblematico interieur alla coppia nefanda perché sono gli interni di Maigret sono gli interni della Cristi in questa dimensione ovattata alto medio borghese si delinque facilmente si sporcan facilmente di sangue quei canapè quei luoghi dove si siede fa bene a ricordarcelo e ha di queste perissie incredibili perché il coraggio di tutto quel nero è straordinario e siamo costretti a seguirla per la strada sempre rammentando che non ci sono parole dove vuole condurci ovvero nel spiegare e appunto dovrebbe a sua volta essere spiegata da uno psicanalista che sapesse però volgere la sua attenzione ermeneutica nelle due direzioni perché se è uno psicanalista che non conosce la storia dell'arte ignora Bonnare Vuillard non può leggere come sarebbe molto molto opportuno che accadesse una splendida ma terrificante ma torbida immagine come questa e avendo questa possibilità la vediamo moltissimo adesso in tantissimi film tantissimi serial televisivi tuttavia ci incute sempre quella particolare menzione della paura che l'illustratrice vuole comunicarci perché buio l'ingresso e luccicanti alcune delle finestre buie altre e luminosissime altre ancora mi viene da dire che batta Magritte sul suo stesso terreno in quanto la narratologia non la dimensione iconologica da cui deriva questa splendida inutrazione va oltre l'idea magrittiana che nella dolce villetta ci sia inquietudine e paura qui sembra quasi che ci sia altro ancora qualcosa che giustamente l'ha fatta porre accanto a Elsa de Giorgi e al suo mondo romano così tremendo dei coetanei ed è splendida anche questa immagine torbida impaurente da far temere la catastrofe di lì a poco e soprattutto quello che è minuziosamente tremendo in questa grande illustratrice di oggi è la capacità di accostare una dimensione tipo forno crematorio lassù e scarpe di quotidianità assoluta qua giù la quotidianità che rasenta l'incubo è qualche cosa che è di una difficoltà estrema da rendere l'anno scorso abbiamo adoperato l'abbiamo rubato questa immagine per farne l'immagine che doveva servire per i programmi del corso sulla paura e certamente doveva essere così perché l'arrivo dei topi l'inquietudine nei bianchi pipistrelli il nero e la stupefazione rappresentano qualche cosa che non frequentemente si incontra è proprio uno stupendo apparato terroristico che risente davvero dell'oggi ai migliori livelli nell'illustrazione e anche questo è stupefacente perché Magrittiano nella costruzione ma tutto suo negli stilemi racconta con una capacità narrativa che è perfetta perché mette due elementi ai due lati un cerchio all'interno nero tutto il resto topi dominanti particolari lascianti intendere delle efferatesse nei rialzi e in basso un'immagine inquietante nella sua incredibile bellezza e nella sua fabbricazione eccelsa fino a costruire quasi degli obonubilanti cataloghi quasi volesse presentare la perfidia a pezzettini in una sorta di valigia da commesso viaggiatore dell'horror e sempre però con un'attenzione ai ragguagli pittorici del novecento all'oniricità dei surrealisti alla storia del visivo in un secolo e passa che riesce a condensare per esempio nella magritiana facciata con lo pezzo d'albero che è straordinaria di per sé ma è straordinaria soprattutto perché è collocata dov'è oggetti la terrificante scansione degli oggetti che come ben sanno i grandi giallisti sono quelli che determinano la suspense quelli che la ritmano e qui ne abbiamo un esempio straordinario anche questo richiama moltissimo Marcel e il suo mondo e certamente un tocco verso i sette volumi della recherche qui è obbligatorio così come tutta la cosiddetta poetica del interieur lanciata non solo da Proust ma da SID da altri francesi più o meno coetanei dei due grandissimi riporta a questa scansione anche questa interessantissima e poi ci sarà e non si lo derà mai abbastanza quello che riesce a riprodurre l'Optraex ecco l'Optraex a riportarti a cosa si prendeva in farmacia in tempo di guerra ed è quello che bisogna sempre dire quali erano i cassè perché allora si è sicuri di entrare davvero nella dimensione e di essere persuasi che non se ne devono fare più e la perfezione figurale della carrozzina bellica anche quella avente una ragione perché non si potevano più fare di ferro perché il ferro veniva dato alle patrie qui alla patria francese ma abbiamo anche noi tutta una notificazione durante la guerra di legni al posto di quello che prima era sempre ferro aperto per fuga per delitto per ritrovamento per perquisizione per addio per sempre straordinario l'insieme di dubbi che ci pone con questa qualità dell'immagine che è perfetta proprio nella persuadere che è una quieta mobiglia ma anche un antro e qui siamo alla ricerca di quello che è tutto il surrealismo vecchio e nuovo ritornante o già morto in mostra celebrativa ma chiuso dentro un libro che invece è attualissimo e qui bisogna perfettamente guardare la scansione delle ombre la estrema particolarità dell'edificio che sembra un pezzo di Le Corbusier inserito insieme a Miró vicino a Matisse ovvero ovvero tanta scienza insieme a tanta abilità pittorica e qui abbiamo De Chirico ovviamente con tutta una serie di rimandi che sono rimandi di una cultura spasmodica perché ha attirato a sé l'immagine gessosa di De Chirico ma anche la prospettiva di Chiricchiana così come l'emblematica del grande pittore italiano passa in un'altra dimensione e deve fare i conti con qualche cosa che va oltre la forza metafisica che lui stesso abbandonò come noto per una pittura che voleva ritrovare il seicento in sdegno della pittura modernissima della pop art in modo particolare questa dramma sembra riprodursi proprio qui all'interno di questa situazione di ansia dove l'oggettistica è spasmodica e le Chirico ritorna in un suo quadro appeso insieme agli elementi in manichino famosissimo che servono al maestro per dipingere è stupendo il modo di mettere insieme liberi cose da bere la classica stampa giapponese che dopo Van Gogh ci vuole sempre il ritratto prima di partire e morire in guerra e dietro l'Olimpia di Manet messa lì in torbi di colori perché non si aveva ancora la possibilità di fare la fotografia a colori stupendo anche questo eclatante nella sua dimensione di silenzio uggioso sospettoso pauroso anche questo magrittiano e al solito il collegamento tra l'interior e la paura catalogo un accurato catalogo scritto di cosa ci vuole per avere una percezione del sogno negativo della paura all'interno di una sommativa di emblematizzazioni che diventa per l'appunto un registro un elemento narrativo grazie dell'attenzione grazie 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 a tutti